Tre amici, stufi di essere singoli e soprattutto di andare ai matrimoni degli ex, decidono di iniziare a frequentare in locali da singolo. Più che altro tre sfigati, non sono solo tre amici, sono tre caratteristiche diverse, dal nerd a quella che si sente brutta, alla manager rampante che però non riesce a tenersi una donna neanche per più di 20 minuti, che poi lo mollano e si sposano e lo invitano soprattutto al matrimonio. E loro sono alla ricerca perenne dell'anima gemella, come tutti noi nella vita, prima o poi. Solo che fanno, come sempre, questa commenta racconta di chi va alla ricerca lontano, quando poi magari ce l'hai accanto, la possibile anima gemella. Infatti, diciamo, tre amici, una donna, due uomini, sono veramente amici? Beh, in realtà sì, diciamo, perché comunque c'è un trascorso nel passato, hanno fatto il liceo insieme, l'università insieme, tutto quanto. E lei a un certo punto, Giuliana è il mio personaggio, lo dice che ha trovato due amici. In questi due amici, in uno crede di aver trovato l'amore della sua vita, in realtà poi non sarà così, e nell'altro credeva di aver trovato uno specchio di se stessa che non voleva assolutamente vedere, ma poi naturalmente ci saranno delle sorprese. Ecco, che non voglio svelare adesso, chiaramente. È bello essere single? Sì, sono stato convincente. Molto. No, come tutte le cose della vita, ogni cosa ha i suoi benefici, le sue toppe, i suoi drammi, i pro e i contro. Sicuramente essere single ha dei pro che vivi, quando li vivi li vivi al 110%, però poi i contro sono amari da digerire e da sopportare. Sempre meglio in due, probabilmente, fare una vita, anche se poi è difficile incastrarle le cose.